Correva l'anno 2000. Vladimir Vladimirovich Putin viene eletto presidente della federazione russa. Vista la congiunzione economica di quel periodo, molti esperti ritengono che avrà difficoltà a finire anche il suo primo mandato. Viene divulgato il terzo segreto di Fatima. La critica lo considera derivativo e molti ritengono che sarebbe stato meglio fermarsi al solo originale. In Italia l'11 maggio si apre il processo per corruzione contro Cesare Previti. Nel frattempo tutta la storia del gioco di ruolo stava accadendo contemporaneamente quell'anno. Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospio su questo canale. Ultimo appuntamento con le serie regolari per quest'anno e come sempre dedichiamo l'ultimo video della stagione a un video di storia. Dalla prossima settimana inizierà la programmazione estiva e quest'anno vedrete qualcosa di speciale legato al progetto di mega dungeon della community del Master Kai. E proprio la community del Master Kai è il motivo che c'è dietro questo video perché tutto nasce da una conversazione che abbiamo avuto su Discord oramai qualche mese fa, a tempo che voi vedrete il video. La community in questo periodo sta lavorando a un progetto interno collaborativo sulla classificazione dei vari giochi di ruolo in base a punti di forza, debolezze, abilità caratteristiche di ognuno di loro per vedere fondamentalmente quale motore di gioco è meglio per raccontare uno specifico tipo di storia che un Master possa avere in mente. Vi lascio il link al progetto qui sotto insieme al server Discord e al gruppo i Telegram nel caso vogliate partecipare anche voi. Una delle caratteristiche in base a quale questi giochi vengono classificati è anche quale sia la scuola di riferimento, cioè se siano giochi OSR, giochi Trad o giochi New Gen. E questo a sua volta ha portato a un dibattito interno su quale sia effettivamente il modo corretto per classificare un gioco in una scuola piuttosto che un'altra. Per quanto per chi sia un attimo più addetto ai lavori nel mondo del gioco di ruolo queste classificazioni sono abbastanza auto evidenti, in realtà per chi è arrivato da poco nel nostro ambiente o semplicemente non ha mai approfondito molto l'argomento al di là dei giochi veri e propri, non è stato così immediato comprendere quali sono le differenze tra queste classificazioni. Quindi per evitare di fare confusione anche qui vediamo di iniziare il video con una piccola premessa. Quando parliamo di OSR, ovvero l'Old School Renaissance, chiamato anche Old School Revival o più semplicemente Old School Roleplay, parliamo di quei regolamenti che sono stati scritti ispirandosi più o meno accuratamente a quella che è la prima edizione di Dungeons & Dragons. Lo stile OSR enfatizza molto mettere i personaggi in situazioni difficili da gestire per i giocatori e in cui devono essere le abilità dei giocatori a loro astuzia messa alla prova e normalmente sono anche molto succinti per quanto riguarda le regole perché enfatizzano il fatto che sia il master a dover creare sul momento regole per gestire le situazioni non previste. I giochi OSR hanno poi anche un tasso di mortalità relativamente alto per i personaggi e in linea di massima si concentrano sullo sfidare i giocatori a portare a termine la missione che gli è stata affidata. Il gioco di ruolo trad o gioco di ruolo tradizionale invece si concentra molto di più sul raccontare una storia che abbia i personaggi dei giocatori come protagonisti o comunque come punto di vista sull'intera vicenda. Per quanto possa presentare anche delle sfide tattiche, proprio combattimenti su griglia, in realtà lo scopo principale del gioco è mettere i giocatori nella situazione di affrontare situazioni varie di gioco immedesimandosi nella psicologia e nelle caratteristiche del personaggio che interpretano e quindi gestire l'intero mondo di gioco attraverso le abilità del personaggio, non tanto del giocatore. Anche in questo caso esiste la figura del master che ha una grande autorità su quello che avviene all'interno del gioco ma in questo caso non si tratta tanto di un'autorità legata alle regole ma all'autorialità della storia. Il master è quello che decide se i fatti di gioco sono accettabili o meno ma non è tanto chiamato a inventarsi regole, anzi il regolamento è particolarmente grosso, approfondito. I giochi tradizionali erano proprio tante regole appunto per poter gestire la maggior parte delle situazioni possibili senza che ci sia un intervento di autorità del master. Volendo riassumere in poche parole, nell'OSR le regole sono quelle che dice il master, nel trad le regole sono quelle che dice il manuale. Per quanto riguarda i giochi new wave o new gen, questa categoria in realtà comprende tutti gli altri giochi di ruolo, quelli che non rientrano nei due canoni che abbiamo detto precedentemente. Questa è la categoria dei giochi di ruolo più sperimentali e più controcorrente, se voglia ammetterla così. Comprendono giochi come Microsoft, di cui abbiamo fatto una serie l'estate scorsa con il master etilico in cui i giocatori non interpretano dei personaggi ma sono lì per ricostruire un'intera storia di un mondo immaginario o con giochi più recenti tipo l'overcraftesque in cui in realtà c'è un solo personaggio e tutti i giocatori collaborano tra di loro per farlo discendere nella follia visto il gioco. Ma comunque sono giochi strani. È molto difficile dare una descrizione in linea generale per loro appunto perché essendo giochi incentrati sull'innovazione, la sperimentazione, in realtà l'unica cosa che li ha comune è appunto quella di essere diversi dai giochi tradizionali ma poi ognuno di loro fa una storia a sé e per quanto ce ne siano alcuni che si assomigliano tra i loro in realtà esistono talmente tante possibilità che non avrebbe senso stare ad elencarle. Ovviamente per ognuna di queste categorie si potrebbe parlare per un'intera serie di video e poi in mente approfondiremo ulteriormente già nella prossima stagione ma diciamo che per ora queste sono le tre definizioni per capire come andrà avanti questo discorso se poi volete approfondire c'è un sacco di materiale in rete non state ad aspettare i miei video. Ora nel discorso generale quando si parla di giochi di ruolo anche solo per via dei nomi che le tre scuole che i tre generi hanno si fa sempre un discorso come se questi tre fossero tre momenti consecutivi della storia e dell'evoluzione del gioco di ruolo. Agli inizi del gioco di ruolo negli anni 70 si giocava quella che è per noi l'old school da lì poi si è evoluto il metodo tradizionale fino a che poi dal metodo tradizionale non è emerso il new wave che ha portato una nuova concezione del gioco di ruolo. Normalmente questa è la semplificazione che si fa per rendere più chiara appunto la storia del gioco di ruolo è l'evoluzione di alcuni concetti ne sono colpevole anch'io è in altri miei precedenti video di storia e proprio in questi termini che ne ho discusso per che questo è effettivamente il modo più facile per introdurre gli argomenti uno per volta ma come tutte le volte che si parla di qualcosa in un contesto storico bisognerebbe sempre ricordare che le date che si studiano a scuola sono una cosa ma poi gli eventi reali ne sono un'altra e sono molto più sfumati di quello che si è portati a credere. In un video precedente che vi lascio linkato qua in alto abbiamo visto come il gioco di ruolo sia nato all'inizio negli anni 70 andando ad evolversi da quelli che erano alcuni scenari particolari pensato per il wargame da tavolo da lì poi si è continuato a espandere sempre di più fino ad arrivare al fenomeno di massa che conosciamo tutt'oggi e che ha varie declinazioni un sacco di appassionati diversi una sua cultura interna tutto quello che volete fa però anche notato che in realtà tutte le classificazioni i fenomeni che noi vediamo tutto quello di cui noi parliamo normalmente quando parliamo di gioco di ruolo in realtà non sono cominciati ad esistere fino agli anni 90 in quella che noi potremmo chiamare l'epoca classica del gioco di ruolo cioè quella che va dagli anni 70 fino agli anni 90 in realtà non esisteva una vera e propria forma di formalismo del gioco di ruolo i manuali originali di dnd contenevano poche regole in realtà per quello che era effettivamente il gioco giocato ma si concentravano principalmente sul spiegare al master come si fa a condurre almeno in teoria una sessione ma anche in quel caso lasciavano molta libertà al singolo master e al suo singolo tavolo su come effettivamente fare le cose al gioco e non essendoci ancora all'era della telecomunicazione di massa questo portava al fatto che ogni singolo tavolo di gioco di ruolo in un contesto in cui il gioco di ruolo era anche molto meno diffuso quindi non necessariamente un gruppo di gioco aveva contatti o aveva contatti frequenti con altri giocatori di ruolo quindi ognuno di questi gruppi alla fine faceva una sorta di storia a sé in cui quel singolo gruppo sviluppava in pratica un suo sistema che loro ritenevano quello corretto per approcciarsi al gioco di ruolo c'erano effettivamente dei tavoli che si concentravano molto sulla risoluzione di enigmi e sull'esplorazione di ambienti magari anche sulla sfida tattica dei combattimenti in una maniera relativamente analoga a quella che noi adesso chiamiamo l'osr ma c'erano anche gruppi che invece utilizzavano il gioco di ruolo principalmente per raccontare storie con una trama pesante basate sui personaggi in maniera che noi definiremmo tradizionale e c'erano altri gruppi che partendo da quelle poche regole che avevano provavano a ampliare i manuali scrivere proprie regole fare sperimentazioni mischiarli poi con altre regole di altri giochi di ruolo che stavano cominciando a uscire in quel periodo creando una minuscola scena fondamentalmente di sperimentazione che è poi la caratteristica principale di quello che è il new wave e oltre questi c'erano poi un'infinità di altri gruppi che facevano altre cose ancora ma che non hanno poi mai voluto diffonderla in seguito o semplicemente hanno ritenuto importante farlo e dato che all'epoca non esistevano le comunicazioni di massa ammettendo che abbiano lasciato qualcosa iscritto quella roba adesso sarebbe vecchia i 70 anni quindi non so neanche se sia ancora recuperabile o leggibile e quindi noi non sapremo mai esattamente qual era la reale scena originale del gioco di ruolo al di là di quello che è stato esclusivamente preservato nella pratica quelle che noi adesso riteniamo le tre grandi categorie le tre grandi scuole del gioco di ruolo negli anni che vanno dai 70 ai 90 esistevano tutte insieme contemporaneamente e l'esperienza di gioco di un singolo giocatore poteva variare estremamente in base a quale tavolo fosse andato a sedersi o anche solo a quale master stesse conducendo quel tavolo in quel momento la situazione cominciò a cambiare verso gli anni 90 perché intanto nel frattempo il gioco di ruolo si era sempre più diffuso stava cominciando a emergere proprio alla nicchia anche grazie a varie trasposizioni videoludiche sono sicuro che quelli vecchi tra di voi ricorderanno con nostalgia Baldur's Gate o magari soprattutto Planscape Torment sia perché a quel punto era entrato in scena internet per cui anche i gruppi di gioco che esistevano nelle zone più o più geograficamente isolate alle altre quindi avevano pochissime possibilità di entrare in contatto con altri esponenti al mondo del gioco di ruolo avevano finalmente un modo comodo per aggregarsi e cominciare a discutere tutti assieme di quello che effettivamente stavano facendo i loro tavoli e tra l'altro questo è il primo momento della storia del gioco di ruolo in cui noi possiamo effettivamente avere dei dati oggettivi su quello che stava succedendo perché quelle discussioni che avvenivano su internet sono ancora lì e possiamo andarle a leggere a differenza di quello che succedeva prima che fondamentalmente a meno che non fosse stato effettivamente scritto e poi prese misure eccezionali perché questo venisse conservato per 70 anni e per la maggior parte è andato perso e bisogna basarsi sui ricordi delle persone che erano già vive all'epoca che adesso se all'epoca avevano 20 anni quando giocavano adesso ne hanno 70 e sul sentito dire la discussione raggiunse il suo apice quando nel 2000 avvennero contemporaneamente due degli eventi più significativi per la storia del gioco di ruolo il primo fu l'uscita della terza edizione in Dungeons & Dragons la prima a essere pubblicata da Wizard of the Coast di cui abbiamo dedicato un intero video ve lo lascio linkato qui in alto e tanto il primo video di storia del canale quel manuale rivoluzionò la scena perché il suo regolamento era pensato per venire incontro al metodo di gioco più diffuso del periodo in cui è uscito che era quello che noi adesso chiamiamo il metodo tradizionale il manuale aveva un sacco di regole e veniva lasciato molto spazio al master per raccontare storie ma molto poco per andare a modificare regole e anche quello che i personaggi potevano non potevano fare a livello di meccanica era definito in maniera estremamente chiara questi sono appunto i precetti del gioco tradizionale che però erano molto diversi da quelli dalla filosofia dei manuali che erano usciti precedentemente dato che quello all'epoca era il metodo di gioco più diffuso cioè la gente usava il gioco di ruolo più che altro per raccontare storie quello era il metodo di gioco normale da qui il modo di definirlo gioco di ruolo tradizionale ovviamente questo non vuol dire che se quello era il metodo più diffuso tutti lo utilizzavano anzi molta gente non si riconosceva in quel tipo di gioco di ruolo e questo portò al secondo grande evento che è successo nel demila cioè un designer ron edward aprì un blog e un relativo forum per discutere in maniera collettiva con quella che doveva essere l'intera comunità dei giocatori di ruolo del mondo dato che questo avveniva proprio grazie a internet su quali potessero essere altri modi per giocare di ruolo e altri modi per intendere i regolamenti che non erano stati ancora citati prima sto ovviamente parlando del famoso o se volete famigerato the forge su edwards e sul movimento forgita bisognerebbe anche lì fare un'intera serie a riguardo quella la vedremo poi quello che interessa a noi per l'argomento è che da la forgia e dal fatto che cominciava a diventare mainstream il concetto di sperimentazione del gioco di ruolo sorsero fondamentalmente spontaneamente e contemporaneamente due nuovi filoni di pensiero su quello che doveva essere il gioco di ruolo del futuro uno che era composto da la maggior parte delle persone a cui non interessava il paradigma di dnd e che quindi volevano allontanarsene per creare effettivamente un nuovo paradigma in cui si facesse sperimentazione e venissero tentati regolamenti e materiali che non erano ancora stati mai pensati prima per vedere se ci fosse un metodo migliore per giocare di ruolo appunto un nuovo genere di giochi di ruolo e dall'altra un movimento reazionario di giocatori che rappresentavano la minoranza di giocatori di dnd ma non sempre nella sfera di dnd che erano tutti quelli che non volevano il metodo tradizionale volevano qualcosa con meno regole più potere accentrato sul master più pensato per il combattimento dell'ospedizione che rifacevano questo loro pensiero a quello che era lo stile di gioco di alcuni gruppi del passato cioè si rifacevano a quella che era la vecchia scuola anche in questo caso ovviamente questi pensieri non è che nacquero spontaneamente in quel momento in realtà giochi sperimentativi e retrocloni si erano già visti negli anni precedenti ma quello che successe nel 2000 con l'uscita della terza edizione dnd fu l'arrivo della OGL ne abbiamo parlato per altri motivi in un video relativamente pochi mesi fa ecco che permetteva di pubblicare materiale anche basato sulle precedenti edizioni d'angelo sandragon in maniera legale potendoci guadagnare dei soldi portando quindi la possibilità per tutti quei gruppi che aveva fatto sperimentazione di retro gaming di pubblicare ufficialmente il loro materiale e visto che con l'arrivo di 3.5 in realtà con l'arrivo di wizard of the coast il bacino di utenza sarà molto allargato quella è stata la prima espansione del gioco di ruolo c'era più mercato c'era più gente che comprava giochi di ruolo e servivano quindi delle denominazioni commerciali per far capire alla clientela che cosa stesse andando a comprare di conseguenza serviva un nome per chiamare le cose per questo motivo fu nel 2000 che nacquero ufficialmente le tre grandi correnti in cui noi dividiamo ancora oggi manuali cioè la corrente tradizionale la corrente old school per i giochi che erano retro cloni e la corrente new wave per i giochi sperimentali che come ho detto in realtà sono sempre esistiti fin dall'alba del gioco di ruolo ma fino a quel momento non c'era mai stato un reale motivo per formalizzarli e per motivi di marketing e anche per motivi di semplicità venivano rappresentati come tre momenti diversi della storia del gioco di ruolo nella pratica in realtà però sì per quanto la corrente sperimentale sia sicuramente emersa dopo e i primissimi giochi di ruolo e fossero effettivamente molto più attinente un war game tutti e tre i metodi sono emersi in qualche momento durante gli anni 70 inizio degli anni 80 quindi se parliamo dell'intera durata della storia del gioco di ruolo sono virtualmente contemporanei tra di loro chiarito questo possiamo dire che per questo video è tutto mi sa che ho lasciato deluse molte persone ho fatto rivedere alcune posizioni di qualcuno almeno lo spero comunque con questo chiudiamo anche la settima stagione del canale del master che è per me questa è stata una delle stagioni più divertenti per via delle grande quantità di collaborazione che abbiamo avuto quel gruppo è però anche una delle più impegnative al di aiututo io mentre i video uscivano oltre la mia vita privata ho dovuto anche scrivere il libro ma di questo poi ne parleremo a settembre adesso siamo ancora in alto mare dalla settimana prossima riparte la programmazione estiva e come vi ho detto all'inizio del video quest'anno avremo qualcosa di speciale perché ritorna la rubrica dello scrivere una quest perché se vi ricordate il mega dungeon di esempio che è stato creato colato volativamente alla community i cui video sono usciti qualche mese fa ecco il materiale che è arrivato in quei video l'avevo già premesso nei video stessi era talmente tanto che per farne anche solo un'analisi molto veloce sono serviti praticamente quattro interi video che vedrete come miniserie a parte quest'estate perché non volevo interrompere la programmazione regolare ma davvero è arrivata tantissima roba e ne sono estremamente felice quindi ho voluto dedicarci qualcosa apposta come sempre per questo video è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete l'occuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di discord e al gruppo i telegram in cui si riunisce la community che poi mi porta a fare robe così enormi per il resto io sono il master cae e noi ci vediamo la prossima stagione